Benvenuto nel miglior canale di notizie bianconere. Non perderti niente, di quello che succede alla Juve. Iscriversi al canale, e attivando la campanella delle notifiche per ricevere tutte le novità. Un'opportunità di mercato, che dovrebbe aprirsi nel 2023, per la Juventus. Questo perché il giocatore colombiano Luis Muriel, 31 anni, è insoddisfatto di pochi minuti in campo. Pur avendo prolungato il suo contratto. Con l'Atalanta, per un altro anno. Muriel come detto prima è insoddisfatto. La scorsa estate la Juventus avrebbe provato il giocatore colombiano, ma senza successo. A causa delle elevate esigenze dell'Atalanta. E tu fan, ti stai godendo il video? Cogli l'occasione per lasciare il tuo liké sul video. E secondo le informazioni, l'Atalanta sarebbe disposta a vendere lui, il giocatore colombiano, nella prossima finestra. Ricordando che la scorsa estate la Juventus ha voluto il colombiano. Ma la Juve non era disposta a pagare 15 milioni. Dal giocatore, se il prezzo del giocatore scende, la Juventus può pensare a Muriel nel 2023. E tu sei un vero tifoso della Juventus. Muriel cosa ne pensate di lui? Vale la pena che la Juventus provi a portare il colombiano? Scrivilo nei commenti.